Orgoglio per l'Uncli per il fatto che la mostra itinerante è libera di imparare sia prodata a Rivarolo o meglio che Rivarolo sia una delle città scelte in Piemonte per ospitarla. Sì, è un progetto che è nato così un anno fa, ci siamo rivolti alla direzione del Museo Egizio effettivamente per fare una di quelle convenzioni per le scontistiche. Noi ogni tanto ci confrontiamo anche con altre regioni d'Italia, avevamo visto che per esempio il Veneto aveva inserito nella tessera del socio tutta la scontistica del sistema museale di Verona e di tutto il Veneto. Di conseguenza ci è venuto in mente anche noi di incrementare la tessera del socio, ci siamo rivolti a loro appunto per verificare se c'erano le condizioni e anche per applicare una serie di sconti per i nostri soci. Noi soci in Piemonte attraverso tutte le prologo ne abbiamo più di 20.000, dunque per noi sarebbe stato anche un segnale in più per non avere le solite convenzioni commerciali. Di lì poi è nata questa collaborazione, loro hanno detto che non volevano limitare solo appunto a questa scontistica della tessera, ma avrebbero voluto con noi, perlomeno con le prologo del Piemonte, poter in qualche modo collaborare. E avevano già in seno una bellissima esperienza con le carceri di Torino e l'Ufficio delle Politiche Sociali del Comune di Torino, appunto questa mostra che era stata creata all'interno delle carceri con questo nome che dice molto, liberi di imparare, perché giustamente anche loro hanno necessità, come dire, di fare qualcosa anche per il sociale. E di qua dalla direttrice Paola Matos, insomma tutto il gruppo che è corposo, ecco perché il Museo Egizio poi tra le altre cose era stato fermo, come tutti i musei per la pandemia, di conseguenza aveva bisogno di rilanciare. E con noi è nata questa stretta collaborazione, ci hanno proposto questa mostra itinerante bellissima, chiedendoci appunto di collaborare con le prologo, ma soprattutto di farla atterrare con una grande astronave, come può essere il Museo Egizio, uno dei musei più visitati al mondo, 40.000 reperti, sono una cosa veramente mondiale. E noi abbiamo subito aderito a questa iniziativa, di conseguenza abbiamo informato tutte le nostre prologo e siamo partiti subito. Dopo una serie di collaborazioni amministrative, insomma di firme, di contratte e altre situazioni, abbiamo deciso di partire. La prima tappa a settembre è stata quella della provincia di Novara, da Rona, sul Lago Maggiore, è una bellissima location, la sede della Prologo, e poi per la provincia di Torino abbiamo scelto Rivarolo e devo dire che sta funzionando molto bene. Tra l'altro poi Rivarolo ha fatto nascere anche delle collaborazioni con l'Anfas e con le scuole che stanno visitando tuttora la mostra e la ritengono molto interessante, soprattutto anche per il mondo più piccino. La Prologo non si ferma mai, anche nell'ambito della mostra, liberi di imparare, e sono stati fatti dei laboratori con l'Anfas per quanto riguarda il Facile da Leggere. Sì, questo è stato il primo laboratorio che abbiamo deciso di intraprendere. Il Facile da Leggere è una forma di far capire il più semplicemente possibile al maggior numero di persone quello che sta scritto, perché il diritto all'accessibilità non è solo ai luoghi fisici, ma anche alla conoscenza. Questo è un utile strumento per poter accedere alla conoscenza e con i ragazzi dell'Anfas che hanno fatto degli studi riguardo ai pannelli che potete vedere qui e li hanno tradotti. Credo che però meglio di me le ringraziamo per questa collaborazione e questi pannelli saranno parte integrante della mostra da qui in avanti. Potete vedere la realizzazione che è veramente ben riuscita, anche visivamente parlando è una cosa fatta bene. Questo ci rende molto orgogliosi. Inoltre abbiamo iniziato a fare anche i laboratori con le scuole elementari di Rivarolo. Abbiamo ospitato già la prima classe, ne sono previste altre cinque nei prossimi giorni, in cui i volontari del servizio civile illustrano la mostra ai ragazzi, fanno fare un giro e poi c'è un laboratorio pratico dove praticamente ogni bimbo si porta a casa il proprio papiro e lo realizza prendendo spunto dalle figure che vede rappresentate nella mostra. Ecco, diciamo così. Varie attività della Proloco, ultimamente il più recente è la Sagra d'Autunno, il mercatino di Beautagambe. E adesso per Natale cosa dobbiamo aspettare? Per Natale ricominciamo finalmente ad essere presenti con il villaggio di Babbo Natale. Sarà presente in Piazza di Tisetto, che è la piazza del buro per i rivarolesi. Nei giorni 8 dicembre, domenica 12 e domenica 19, ci sarà la casetta di Babbo Natale con parcheggiata la sua antica slitta, quindi Babbo Natale ospiterà i bambini che vogliono portare la letterina per il dono preferito per Natale 2021 o sognato e magari pure preferito. In quelle giornate lì ci saranno dei laboratori anche lì per i bambini, normative Covid permettendo riusciremo a realizzare magari dei pendagli per il proprio albero a casa, piuttosto che magari abbellire l'alberi che ci saranno nella piazza. Verrà distribuito il vin brulee e i biscotti di Natale con il tè di Natale. Il giorno 12 eccezionalmente faremo le frittelle di mele con lo zabaione, quindi vi aspettiamo numerosi, aspettiamo tanti bimbi perché finalmente è anche l'occasione per ritornare in piazza e prepararci così al Natale con il villaggio di Natale. Grazie a tutti.